mi sto direttamente con gli occhi chiusi no no li puoi chiudere anche quando ora vabbè tanto è lassù va che gioia il mio vicino di casa non c'aveva altro da fare oggi che finire qui a urlare ringrazio ancora la vigna no scusa virginia no virginia ringrazio la nostra virginia chiedo come è andata benissimo bene è stata bellissima mi fa piacere nonostante il clacson il vicino che è venuto a urlare ti sei rilassata tantissimo bene ma quante volte t'ho chiamata t'ho chiamato più volte no no perdonami io guardo è così sono svampita e questo è a Grazie a tutti